un minuto solo beh, ci dici solo perché hai voluto essere qua stasera? non hai spiegato beh, non è nuova, scusa riprendete per inseguamente ciò che ho detto e copiatelo in quell'altro beh, senti, siete sempre risposti, tanto se siete sempre venuti insieme non ho voglia di parlare davvero, ti chiedo gentilmente, davvero non ho voglia potete parlare a Chiara se vuoi dire qualcosa tu non chiedi, insomma, può essere significativo il fatto che tu sia qua da solo stasera? il primo giorno della Milano Fashion Week è già caratterizzato da un'assenza inaspettata Chiara Ferragni potrebbe non fare alcuna apparizione nonostante ciò, lo spirito della moda non si ferma ispirato dal celebre motto The Show Must Go On The Queen mentre l'imprenditrice digitale si tiene in disparte per preservare la sua immagine dopo il Pandoro Ghett le passerelle di Milano brillano di glamour ma la vera magia arriva dal teatro Ariston di Sanremo dove i riflettori del festival lasciano spazio, a nomi come Rose Villen il 3, Arisa, Rosa Chemical, Victoria de Angelis de Imaneskin Comacose, Levante e Noemi nonostante le assenze e le controversie la moda e la musica continuano a intrecciarsi regalando momenti di pura bellezza e creatività al pubblico internazionale grazie a tutti